Il governo avverte che servono più controlli oppure è meglio chiudere le frontiere. Oggi 14 positivi e un deceduto per Covid in Campania. Dossier confesercenti, metà aziende aperte, la crisi da Covid continua a penalizzare il settore del commercio e del turismo. Secondo l'ultima statistica dell'Associazione degli Esercenti, il 52% delle aziende sarà aperto. Intanto tornano le crociere a Napoli. La tragedia di Maia, ignorate le denunce. Da tempo i residenti di Piazza Carlo III avevano segnalato i pericoli della zona. Non ci sono strisce pedonali, manca la segnaletica, il semaforo è rotto. Intanto gli amici della ragazzina di Carata Capodichino lasciano peluscio, fiori e lettere sul luogo della tragedia. Ambiente, coste inquinate e l'allarme di Goletta Verde. Dati preoccupanti dal monitoraggio di lega ambiente sulle coste regionali. In campagna 14 punti sui 31 analizzati risultano oltre i limiti di legge. Il presidente ha imparato ancora troppe criticità. La questione depurazione deve essere al centro dell'agenda politica regionale. Benevento, caos movida, nuovo appello al prefetto. Dura denuncia dei residenti del centro storico del capoluogo Sannita dopo il danneggiamento di un'auto lasciata in sosta nella zona in cui si concentra la movida cittadina. Appello alle istituzioni, il prefetto intervenga presto. Avellino torna a casa il medico guarito dal covid. Dopo quattro mesi Carmine Sanseverino oggi ha lasciato la clinica Villa dei Pini ed ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Sono commosso, grazie a tutti per avermi sostenuto, racconta Sanseverino a 696 TV tra gli abbracci e la commozione dei parenti e sanitari della clinica. Buonasera, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Abbiamo seguito insieme i nostri titoli e come avete sentito in primo piano c'è il covid che avanza, sale la curva dei contagi. Su 741 tamponi, 14 sono le persone risultate infette dal coronavirus. Attenzione puntata sui rientri dall'estero. De Luca lancia l'allarme, rischiamo di chiudere le frontiere. Il numero dei contagi continua a salire e fa ripiombare tutti nella paura della pandemia coronavirus. Nella giornata di ieri i casi accertati in Campania sono stati 22, la maggior parte di persone provenienti dall'estero. L'unità di crisi oggi ha fatto segnare altri 14 positivi su soli 741 tamponi. La Campania, con l'aumento dei contagiati, raggiunge Lazio e Sicilia. È risalito anche l'indice di infettività da 0,5 a 0,7. L'unica, ma non secondaria, nota positiva è che si tratta quasi sempre di casi asintomatici. I casi registrati sono in provincia di Caserta, due a Villa Literno, parenti degli americani rientrati in un periodo di vacanza, tre di San Felice a Cancello. Poi ci sono due casi registrati nell'abitazione dove risiedono altri extracomunitari. L'ultimo è una dipendente dell'ASL di Caserta che opera in un campo rom. Nel Salernitano, solo due i casi che rientrano nei segnalati dell'unità di crisi, è partita già una nuova mappatura dei contatti. Intanto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia l'allarme e dice sono necessari i controlli accurati alle persone che entrano in Italia, in caso contrario è molto meglio chiudere le frontiere. L'80% dei nuovi contagiati è stato provocato da persone che provenivano dall'estero. Sono indispensabili anche i controlli della temperatura corporea, ma anche test serologici e una stretta rigorosa sui controlli, altrimenti diventerà inevitabile la chiusura delle frontiere, ha scritto De Luca sulla sua pagina Facebook. L'invito ai cittadini è di rispettare rigorosamente le misure di precauzione e prevenzione previste, senza le quali va evitato di avere contatto con quanti, anche familiari, rientrano da viaggi all'estero. Ma intanto, dopo il via libera del governo, a partire da Ferragosto, per martedì 18 agosto è atteso l'arrivo della nave MSC Grandiosa nel porto del capoluogo partenopeo. Vediamo. Tornano dopo quasi otto mesi le navi da crociera nel porto di Napoli. Dopo il via libera a partire dal Ferragosto, previsto nel nuovo decreto varato dal governo, è atteso per martedì 18 agosto l'arrivo nel porto del capoluogo partenopeo della MSC Grandiosa, proveniente da Civita Vecchia e diretta a Palermo. Le navi da crociera dunque riprendono a navigare dopo lungo periodo di stop. L'ultima nave ad aver toccato Napoli è stata la Viking Star il 26 dicembre del 2019. Poi c'è stata la pausa invernale, quest'anno ulteriormente prolungata a causa dell'emergenza Covid. Dal 15 agosto le crociere ripartono dunque, ma con protocolli ben precisi. E proprio il fattore sicurezza sembra essere stato determinante per chi quest'anno ha deciso di rinunciare alle vacanze estive. Vorremmo non frequentare posti dove ci stanno assembramenti eccetera eccetera, quindi ci fermiamo in città perché dovrebbe essere più vuota di questi tempi. Se si riuscisse ad andare al mare rispettando comunque la sicurezza, sì, se no preferisco rimanere in città appunto per cercare di stare più tranquilli. E così l'emergenza Covid sembra aver cambiato le abitudini dei vacanzieri che si dividono tra chi ha deciso comunque di non rinunciare alle ferie estive e chi invece ha preferito restare a casa, magari approfittando delle città vuote per trascorrere qualche giorno di relax in famiglia. Resto a Napoli. Il Covid insomma diciamo ci ha ridimensionato un po'. Sicuramente vedere cosa c'è in giro e anche se c'è il Covid sta a stare un po' attenti e a casa non riesco a rimanerci. Intanto il 52% delle aziende campane non chiuderà la propria attività proprio per Ferragosto e quanto emerge dallo studio di Confei Esercenti che conferma il momento di crisi patito proprio dai piccoli imprenditori. La crisi economica provocata dal Covid ha cambiato le abitudini degli italiani e un'ulteriore conferma si avrà in occasione del Ponte di Ferragosto secondo uno studio realizzato dalla Confei Esercenti il 52% delle aziende campane non abbasserà la serranda della propria attività per provare a recuperare le perdite provocate dalla chiusura forzata dei mesi scorsi. Saremo aperti tutto il mese, le ferie non si faranno più. L'anno scorso arrivavano turisti chiaramente e il mese di agosto aveva sostituito anche il mese di dicembre come incasso. Però adesso con il lockdown che è stato, con la crisi che c'è, come facciamo a chiudere? E i proprietari con i palmi per ogni caso questa roba qui. A Ferragosto il 66% delle attività di ristorazione resterà aperto in Campania e anche il 10% dei negozi di abbigliamento. No, rimaniamo aperti tutto il periodo ma come ogni anno, non è solo per il coronavirus. No, sarò aperto, sarò aperto. No, noi siamo sempre aperti, di solito non chiudiamo mai, dobbiamo solo il giorno di Natale, proprio perché la città è cambiata e diciamo che a parte questa situazione del Covid la città era cresciuta anche a livello turistico. Anche se adesso comunque il turismo è zero, minimo proprio. Il problema è che io non riesco a capire tutte queste restrizioni che ci hanno fatto con le mascherine all'interno dei locali e poi devo vedere magari sulle spiagge o le feste locali, le discoteche, tutte queste cose qua che non usano nessuna prevocazione. Ma c'è anche chi ha scelto di restare chiuso a causa dell'assenza dei turisti. Io penso che lo chiudo e vado in vacanza perché come sta la situazione un po' drammatica, non ci stanno turisti, non c'è nessuno, quindi ci conviene fare la vacanza. E adesso parliamo della tragedia di Maia, 15 anni, travolta e uccisa in piazza Carlo III a Napoli. I test su alcol e droga sul 21enne che l'altra volta sono risultati negativi. Intanto domani a Calata Capodichino si terranno i funerali della ragazzina. Sono risultati negativi gli esami tossicologici eseguiti sul 21enne che la notte tra venerdì e sabato scorso a Napoli in piazza Carlo III, mentre era alla guida della sua Smart in compagnia della fidanzata, ha investito e ucciso Maglia Gargiulo, 15 anni, e ferito l'amica di anni 14. L'amica di Maia ha riportato una frattura al femore e a breve sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. Intanto oggi si è svolto l'esame autoptico sul corpo della 15enne nel secondo policlinico della città. E l'esequio della ragazzina si celebreranno domattina alle 10.30 nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Via Calata Capodichino. Intanto il luogo della tragedia è stato invaso da peluche, fiori, lettere degli amici di Maia che continuano a ricordare l'amica. Gli agenti della polizia locale hanno analizzato anche i tabulati ricavati dal cellulare del ragazzo e hanno scoperto che quando si è verificata la tragedia quel telefono non era in uso. Il semaforo, la scoloritura delle strisce pedonali, le condizioni degli alberi. Nell'oro verbale gli agenti della municipale non hanno trascurato alcun particolare nel ricostruire la dinamica dell'incidente che ha spezzato la vita della giovane Maia Gargiulo. Indagini accurate sono in corso sulla segnaletica e sui dissuasori da tempo inesistenti in una delle piazze più grandi di Napoli in una strada caotica e a scorrimento veloce. Intanto sono iniziate le analisi dei video registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona. Intanto il 21enne aveva raccontato di non aver visto le due ragazzine che stavano attraversando la carreggiata. È stata sentita anche la fidanzata, coetanea del 21enne. Per scontro sulle inchieste, in vista delle regionali, il candidato Stefano Caldoro precisa non siano strabiche, si facciano a destra e sinistra. Lancia poi dure accuse al governatore De Luca parlando di sistema Salerno basato sul voto di scambio per gestire il potere. È sempre più scontro in Campania in vista delle elezioni regionali e non si ferma il botta e risposta tra i diversi schieramenti politici. Il candidato presidente del centrodestra Stefano Caldoro lancia bordate sulle inchieste che precisa si fanno a destra e sinistra e non devono essere strabiche. Nel centrodestra uno tsunami a due mesi dalle elezioni dall'altra parte cose allarmanti, Chiosa Caldoro che parla del sistema Salerno, del governatore De Luca, della macchina pubblica utilizzata per il consenso, quella delle partecipate del voto di scambio da parte di un truffatore politico che ha gestito il potere con il suo clan, senza idee, chiarisce. Anche sull'aeroporto ci sono le risorse trovate da me, ora solo ritardi. Di tutta risposta il consigliere regionale e segretario del Partito Socialista Enzo Maraio tornando sull'inchiesta sui Covid Center che vede coinvolti alcuni fedelissimi di De Luca. Come il consigliere regionale Luca Cascone parla di strumentalizzazione da parte dell'opposizione proprio alla vigilia del voto. I soggetti coinvolti, probabilmente coinvolti, conoscendoli da anni, saranno estrani ai fatti e saranno nella possibilità di dimostrare che è soltanto fuffa ed è fumo. Quando mancano degli elementi di contestazione da parte dei nostri oppositori e della minoranza è chiaro che si rifugia nella strumentalizzazione di iniziative giudiziarie, il cui esito ovviamente è lungo da verificare. In ogni caso, qualsiasi responsabilità di natura personale non certo potrà travolgere e sconvolgere. Invece, l'intera coalizione, a partire dal presidente De Luca, che durante il Covid ha dimostrato la sua capacità di decisionismo, la sua capacità di concretezza che ci ha portato a risolvere tanti problemi e ad evitare stragi in Campania. A Benevento sono in corso le indagini su un incendio che nel primo pomeriggio ha distrutto un garage a piano terra di un condominio nel quartiere Capodimonte. Il rogo ha danneggiato i locali, ma ha dato in fumo il materiale che era stato sistemato in un box. Quando sul posto sono arrivati i pompieri, hanno trovato la porta aperta. Un particolare è questo, ora il vaglio dei Carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini di rito. Ambiente, coste inquinate, scatta l'allarme di Goletta Verde. In Campania, 14 punti sui 31 analizzati risultano oltre i limiti di legge. Anche quest'anno in Campania si registrano livelli di inquinamento record. Il quadro è emerso dal monitoraggio sulle coste di Goletta Verde, che a Salerno ha presentato i risultati della storica campagna di Lega Ambiente. Nella regione, 14 punti sui 31 campionati risultano oltre i limiti di legge, 10 quelli fortemente inquinati. Tra questi per l'undicesimo anno di seguito la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce del canale di Licola a Pozzuoli. E' emergenza dunque sulla situazione della depurazione in Campania, che deve diventare tema prioritario dell'agenda politica regionale, denuncia il presidente di Lega Ambiente Campania, Maria Teresa Imparato. Una situazione che denunciamo da tempo, una situazione che deve essere al centro della priorità politica. La depurazione è importantissima. e ad oggi, ad un mese dalle elezioni, dobbiamo chiedere alla classe politica, ai nostri dirigenti, di accendere i riflettori sulla qualità delle acque. Gli indagati principali, i malati cronici, sono le foci, i torrenti, dove spesso vengono ritrovati scarichi abusivi, scarichi illegali. E quindi bisogna prevenire, controllare, ma bisogna soprattutto costruire i depuratori, mettere i collettori dove mancano. La maglia nera la porta alla foce del Sarno, la foce dell'Irno. E da 11 anni ritroviamo questi punti fortemente inquinati. Intanto è allarme movida violenta. Nel centro storico di Benevento esplode il nuovo caso dopo il danneggiamento ad un'auto in sosta lasciata proprio nella zona in cui si concentra il divertimento notturno. Ancora un episodio di violenza in centro storico a Benevento. Amara scoperta questa mattina per una residente che nel raggiungere la sua auto parcheggiata in piazza Piano di Corti ha scoperto il parabrezza completamente danneggiato da tre colpi. Un danneggiamento avvenuto nella notte per il quale la donna sporto denuncia alla polizia immediato l'allarme lanciato dai residenti attraverso il comitato di quartiere centro storico. È una cosa estremamente grave anche perché rappresenta un'escalation di violenza che non deve avvenire nel nostro centro storico. Abbiamo denunciato quello che stava avvenendo nei nostri vicoli, abbiamo chiesto un maggior controllo, abbiamo richiesto anche una maggiore attenzione per i vicoli e però nulla è stato fatto. Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine deve essere un poco più stringente e pressante. Numerosi infatti richiami alle istituzioni a garantire maggiore sicurezza nella zona tradizionalmente frequentata dalla Movida e che spesso ha fatto registrare problemi. La signora che ha subito questo danno si è ritrovata con un parabrezza inservibile tra le altre cose ha paura per sé e per i suoi figli perché parliamoci chiaro, se si passa dalle scritte vicino ad una parete poi si giunge alla rottura di un parabrezza. Che stiamo aspettando? Che altro deve avvenire? Dobbiamo arrivare alle solite risse o peggio ancora alle aggressioni di inermi cittadini? Insomma cerchiamo di renderci conto che c'è necessità di agire e di agire quanto prima. Quindi l'appello noi lo rivolgiamo al prefetto di Benevento affinché operi a un miglior controllo del territorio mediante l'utilizzo delle forze di polizia di cui lui può disporre liberamente. E adesso vi raccontiamo finalmente il lieto fine per la storia del dottore Carmine Sanseverino quattro mesi tra lotta al covid e riabilitazione oggi ha finalmente lasciato la clinica Villa dei Pini e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Dopo 120 giorni di lotta al covid al Moscati lunghe terapie di riabilitazione il dottore simbolo della lotta al coronavirus Carmine Sanseverino oggi alle 15.30 ha lasciato la clinica Villa dei Pini e ha potuto finalmente dopo quattro mesi riabbracciare la sua famiglia. Commosso, visibilmente provato dalle cure affrontate per sconfiggere il covid il dottore è riuscito a recuperare forza e funzioni e oggi ha lasciato lo staff della clinica ringraziando chi in queste lunghe settimane lo ha seguito, sostenuto, curato e aiutato. È finita una parte del percorso riabilitativo poi continuerà a domicilio, in ambulatorio, eccetera. Ebbene, dopo quattro mesi le emozioni sono tante. Saluti a tutti, vi ringrazio tutti per la partecipazione che hanno avuto tutti alla mia vicenda. Un lungo calvario, il suo, venne ricoverato il 14 aprile intubato dopo pochissimi giorni risvegliato dopo quasi due mesi di sedazione. Dichiarato guarito a fine maggio lasciò l'area covid tra fila di medici e infermieri che vollero applaudire al suo risveglio che commosse tutto il Moscati. Poi, dal 12 giugno, i due mesi di lunghe e faticose sedute di fisioterapia per tornare alla vita. Coraggio e forza nella sua storia di medico autentico pronto e desideroso di tornare in corsia. Ho fatto il mio dovere come tanti e purtroppo sono stato sfortunato in questa vicenda ma insomma niente di particolarmente eclatante. non sono, non ero assolutamente. Finanza di Napoli e Procura della Corte dei Conti stanno effettuando una serie di accertamenti sulla concessione da parte della Regione Campania dello stadio Collana alla società Giano. Nel corso delle indagini sono state rilevate secondo gli inquirenti una serie di criticità in relazione alla mancata esecuzione delle verifiche da parte della Direzione Generale per le risorse strumentali della Regione Campania sulla operato della Geno. Giano, scusate. In particolare l'attenzione si è concentrata sui lavori di miglioramento del complesso sportivo nonché su alcune rilevanti anomalie relative alle modifiche del piano economico finanziario del contratto. La Giunta regionale ha di recente nominato un commissario ad acta al quale sarà assegnato l'incarico di controllare l'esecuzione della concessione per approfondire e porre rimedio alle criticità segnalate dagli organi inquirenti. Torniamo a Salerno. Rifiuti e polemica per le condizioni di degrado registrate in particolar modo nel centro. La funzione pubblica della CGL difende i lavoratori del settore e chiede l'intervento di una task force su tutto il territorio. Salerno, sempre più sporca contro le microdiscariche disseminate in città, intervengono anche i sindacati che denunciano l'anarchia di cittadini e commercianti che avrebbe portato a un calo della percentuale di raccolta differenziata e al lavoro sempre più pesante per i dipendenti di Salerno Pulita. Non si addossino le colpe alla società che gestisce il ciclo dei rifiuti, precisa Antonio Capezzuto della CGL. Abbiamo chiesto l'intervento di una task force, quindi non solo il contributo della polizia locale, già impegnato ovviamente in questo periodo in servizio di ordine pubblico e il contrasto al contagio al coronavirus, ma soprattutto la presenza di guardie ambientali. Noi pensiamo che la colpa non possa essere addossata soltanto al gestore e quindi ai lavoratori, ma ci sia una responsabilità che, diciamo, prima di tutto di coloro che sono incivili, quindi sia dei cittadini, ma soprattutto dei commercianti, e poi una responsabilità politica rispetto al fatto che c'è bisogno di una visione in un lungo periodo, appunto partire dal contrasto dell'inciviltà, poi a settembre ragioneremo con l'azienda del nuovo piano industriale, abbiamo chiuso un accordo che quindi prolungherà il lavoro degli operatori della Serenopulita a 38 ore, quindi da settembre, quindi avremo più ore. Basta col dire che sono gli operatori che non puliscono la città, basta col dire che è il gestore che non funziona, e soprattutto controlli e soprattutto sanzioni. A denunciare uno stato di degrado in città, anche il consigliere lega Dante Santoro, con il coordinatore cittadino Rosario Peduto, dovremo parlare di ripartenza, offrire un biglietto da visita presentabile per una città che vive di turismo, e invece ci ritroviamo a dover denunciare strade ridotte a pattumiere per l'inerzia dell'amministrazione comunale, precisano. Una serie di furti degli uffici pubblici di Benevento e di Giallo, prima l'asla, la scorsa notte, invece incursione nell'edificio che ospita il settore tecnico della provincia. Ma ci racconta tutto Alessandro Fallarino. Porte e finestre rotte, distributori forzati, gettoniere sparite e scrivani a soquadro con cassetti aperti. È lo spettacolo che questa mattina si sono trovati di fronte gli addetti alle pulizie degli uffici della provincia di Benevento, finiti nel mirino dei ladri. La seconda incursione in pochi giorni è i danni di uffici pubblici nel capologo Sannita. Dopo l'asla, infatti, nel mirino dei malviventi è finito anche il settore tecnico dell'ente di Piazzale Carducci al quartiere Mellusi. I ladri hanno utilizzato, come vi è d'accesso, una finestra al piano rialzato dell'immobile, peraltro dotato di allarme e sistema di videosorveglianza. Dopo aver mandato in frantumi il vetro dell'infisso, hanno fatto ruotare la maniglia e sono entrati in un ufficio peraltro chiuso a chiave. Anche in questo caso la porta è stata spaccata ed aperta dai malviventi. Attenzione rivolta a tutti gli uffici presenti nella palazzina. I cassetti, infatti, di tutte le scrivanie sono stati aperti e gettati sul pavimento. Danneggiato anche un distributore di snack, dal quale sono stati portati via i soldi dalla gettoniera. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della polizia, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo per cercare di raccogliere elementi utili all'identificazione dei malviventi. Pochi giorni fa la stessa sorte era toccata alla sede centrale dell'aslo di via Mascellaro. Anche in quel caso porte rotte al pari dei distributori e soldi rubati. E adesso parliamo dell'accensione delle luminarie che hanno dato via ufficialmente al Ferragosto Avellinese. Anche quest'anno non è mancata la tradizione delle luminarie. Alle 21 in punto il sindaco Gianluca Festo ha alzato l'interruttore posizionato all'altezza della chiesa del Rosario e ha illuminato il corso Vittorio Emanuele. Un'emozione per tutti, ha detto, non potevamo far mancare rispetto di questa tradizione. Quella delle luminarie, che da sempre ci ha accompagnato, alle quali sono legati anche tanti ricordi, sin da quando eravamo bambini, il Covid non poteva fermarci, anche per far comprendere che la vita continua, dobbiamo rialzarci, lo stiamo facendo abbastanza bene, ma ora ci aspetta il compito più arduo, quello di riprendere il cammino che avevamo interrotto e di rispiccare il volo. Vi dico anche che probabilmente le sorprese non finiranno con le luminarie. Una, un'altra grande tradizione, quella dei fuochi, il 15 agosto, e stiamo lavorando per regalare anche il rispetto di questa tradizione alla nostra città. E nonostante la paura per il Covid, il corso Vittorio Emanuele era affollatissimo. Ai cittadini piace la tradizione delle luminarie. È sempre un bel simbolo vedere queste luci a ferragosto. Grazie sempre al sindaco che fa sempre il suo dovere. È la prima volta che le vedo e mi piacciono, sì. È un'atmosfera abbastanza accogliente, soprattutto in questo periodo, fa sentire un po' parte di un insieme. Un po' di allegria in questo periodo. Sono bellissime. E molto, veramente. Sono belle, grazie. Di più non mi aspettavo. Anzi, già le luci è tanto. Agriturismi verso il pienone per Ferragosto. Il presidente regionale della Coldiretti, Gennarino Masiello, dice dalla costa alle aree interne, in tanti questa estate, stanno scegliendo le aziende agrituristiche per le vacanze. Dalle passeggiate all'ombra degli olivi all'enoturismo, così gli agriturismi conquistano i visitatori alla ricerca di ampi spazi all'aperto, coniugando l'enogastronomia con una proposta turistica sempre più differenziata. E dopo mesi particolarmente difficili a causa del lungo periodo di chiusura imposto da lockdown, per il Ferragosto le previsioni lasciano ben sperare per il settore. È chiaro che non si riuscirà a recuperare quel che si è perso nei mesi scorsi, ma non possiamo lamentarci per quelle che sono le prenotazioni per il Ferragosto. Evidentemente questo è dettato anche dal fatto che il cittadino ormai preferisce anche poter trascorrere le proprie vacanze, i propri tempo libero in spazi ampi e quindi l'agriturismo è sicuramente un ottimo connubio tra quello che può essere l'enogastronomia e soprattutto quelli che possono essere anche opportunità di spazi ampi e disponibilità per famiglie di poter giocare all'aperto. E nonostante l'assenza dei turisti stranieri per quest'estate gli agriturismi si avviavano verso il pienone per il Ferragosto. Sicuramente si va verso il pienone. È chiaro che però possiamo dirci che non è che con questa settimana riusciamo a recuperare le ferite realizzate nei mesi scorsi per la chiusura dettata dal lockdown. Sicuramente si farà un lavoro importante. speriamo che questo lavoro possa durare almeno tutto l'autunno. Trendo positivo dunque che si spera possa continuare anche in autunno e che riguarda sia la costa che le aree interne. Abbiamo veramente un interesse non solo per le aree interne ma soprattutto anche per le fasce bastiere. Ed ora passiamo alla pagina sportiva a questo punto salutiamo tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito in diretta social che possono continuare a seguirci in diretta sul canale 696 TV 8 Channel. E partiamo con il Napoli in apertura quindi la Serie A oggi a Capri incontro tra De Laurenti e Gattuso c'è l'intesa il tecnico è pronto a rinnovare il suo contratto con gli azzurri fino al 2023. Avanti insieme Sino al 2023 dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Barcellona il Napoli è già proiettato alla prossima stagione. Si è tenuto oggi a Capri un incontro tra il presidente De Laurenti e Gattuso sul tavolo il rinnovo del contratto dell'allenatore da perfezionare prima dell'inizio della prossima annata agonistica. In tal senso non dovrebbero esserci intoppi di sorta. La stima tra le parti reciproca è stata manifestata più volte pubblicamente. L'unico nodo da sciogliere è così relativo alle penali che il numero uno del club azzurro è solito inserire nei vincoli di chi ha le sue dipendenze in caso di rescissione anticipata. La questione non è dunque di carattere economico anche se l'ingaggio percepito dal mister calabrese pari a 1.300.000 euro netti è tra i più bassi paragonandolo a quello dei suoi colleghi in serie A. Lo scoglio è perciò relativo a una formula che non sarebbe pienamente condivisa. Si vedrà intanto nonostante l'essonero di Sarri la Juventus non ha alcuna intenzione di abbandonare la trattativa per Milik che resta l'obiettivo numero uno dei bianconeri per occupare il posto che sarà lasciato vacante da Higuain in uscita dalla società piemontese. Nell'operazione potrebbe essere inserito Bernardeschi che rappresenterebbe più di una semplice alternativa per il tridente partenopeo ma che andrebbe a ridurre in maniera considerevole il potenziale in troito cash. Adesso siamo al Benevento che sta preparando il prossimo campionato senza lasciare nulla al caso i giallorossi saranno la prima squadra di serie A a partire per il ritiro i particolari nel servizio. Il Benevento ha ufficializzato il nuovo organigramma societario della prossima stagione quella del ritorno in serie A il consiglio di amministrazione è composto ovviamente dal presidente Oreste Vigorito che potrà contare su tre consiglieri il dottor Ferdinando Renzulli con delega ad amministrazione e rapporti con istituzioni federali civili e militari il dottor Stefano Renza con delega alla finanza e Diego Palermo con delega al settore giovanile per il resto non ci sono sorprese a parte la new entry rappresentata dalla presenza del giornalista Antonio Sasso come responsabile dell'ufficio della comunicazione nel frattempo i calciatori giallorossi si godono gli ultimi giorni di vacanza nel fine settimana raggiungeranno il vigorito per effettuare i test sierologici in vista del ritiro che comincerà il prossimo 17 agosto in tal senso il Benevento sarà la prima squadra in serie A che partirà per la preparazione precampionato una programmazione capillare da parte della strega che non ha alcuna intenzione di lasciare nulla al caso a poco più di un mese dall'inizio del campionato che come noto partirà il 19 settembre si attende anche la comunicazione della pubblicazione del calendario che dovrebbe avvenire il 31 agosto si ragiona in tal senso su come organizzare la stagione considerati i tanti impegni ravvicinati e le gare della nazionale il Benevento pensa a se stesso e tiene già ben presente l'obiettivo principale che cercherà di ottenere con le unghie e con i denti la salvezza in serie A e adesso andiamo a scoprire insieme tutte le novità in casa salernitana Fabrizio Castori viaggia spedito verso il ritorno a Salerno l'ex tecnico del Trapani è il nome individuato dalla salernitana per sostituire Gian Piero Ventura sulla panchina della Reiki allenatore dotato di esperienze e carisma tornerebbe in Granata a distanza di 12 anni dalla sua prima esperienza Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ne hanno discusso nel corso di un incontro avuto con il direttore sportivo Angelo Fabiani la strada sembra essere ormai tracciata e l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore prima però Castori dovrà risolvere alcuni aspetti burocratici con il Trapani club dal quale si separerà dopo aver sfiorato una clamorosa salvezza la società aveva pensato anche a Paolo Zanetti Alessio Dionisi che tuttavia sono ad un passo dall'accasarsi altrove il primo dovrebbe andare al Venezia dove sostituirà il secondo che è in procinto di accordarsi con l'Empoli Alessandro Nestri e Alfredo Aglietti invece sono ancora impegnati con Frosinone e Chievo Verona nei playoff a far pendere l'ago della bilancia dalla parte di Castori anche la sua conoscenza di diversi elementi della Rosa Granata con i quali ha lavorato in passato salvo colpi di scena la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore a Salerno il tecnico marchigiano troverà un clima di contestazione anche in provincia sono spuntati striscioni contro la proprietà finita nel merino dei tifosi dopo la mancata qualificazione ai playoff ed eccoci alla Serie C Avellino e Turris sono le campane più attive sul calcio mercato vediamo per le campane in Serie C è iniziata una lunga settimana di calcio mercato l'Avellino è sulle tracce dell'esterno d'attacco classe 99 Salvatore Elia figlio di Firmino ex attaccante dei Bianco Verdi nella scorsa stagione in prestito alla Juve Stabia il calciatore di proprietà dell'Atalanta ha totalizzato 20 presenze e realizzato un gol per la difesa invece ha un passo il centrale Gabriele Rocchi 24enne svincolato dopo una stagione alla Cavese stesso ruolo di Alberto Dossena che di anni ne compirà 22 a ottobre come Elia e di proprietà dell'Atalanta in dirittura d'arrivo c'è pure il suo trasferimento a titolo temporaneo all'ombra del Partenio per il centrocampo sono dati altri due over Mattia Corradi di proprietà del Piacenza e Danny Gigliotti della Virtus Francavilla Sponda Turris proseguono i contatti tra il direttore generale Rosario Primicile e il direttore sportivo della regina Massimo Taibi avanzati discorsi relativi a due potenziali rinforzi per la mediana dei Corallini Urban Zybert e Matti Lund Nielsen il primo arriverebbe in prestito il secondo a titolo definitivo per Zybert c'è da battere la concorrenza della Paganese via libera ad allenamenti di gruppo tornei competizioni dilettantistiche anche in presenza di pubblico lo ha stabilito il nuovo decreto confermando l'intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di far regolare le attività basandole sull'applicazione delle ordinanze regionali il DPCM stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di mille spettatori all'aperto di 200 al chiuso per gli eventi a carattere territoriale confermate però tutte le misure in ordine a distanziamento mascherine corretta a reazione dei locali al chiuso obbligo di misurazione della temperatura per gli eventi di carattere nazionale resta per il momento l'obbligo delle porte chiuse si tratta di un passaggio fondamentale verso il ritorno alla normalità sono state confermate le nostre intuizioni sostenute dal nostro coordinamento sanitario e quanto ha dichiarato con soddisfazione il presidente della Lega Nazionale di Lettanti Cosimo Sibilia siamo al basket in Serie A2 si va verso la conferma del format a due gironi con 27 squadre salvo colpi di scena dopo l'esclusione della Juve Caserta la Serie A2 2020-2021 resterà 27 squadre non riaprendo i termini per l'inserimento in organico di un 28esimo club pressoché nulle le possibilità di cambiare i termini della delibera del Consiglio federale dello scorso 6 agosto si va verso un girone nord a 14 squadre e un girone sud a 13 per ciò che concerne le aventi diritto a prendere parte alla prossima stagione si manterrà il numero attuale composto dalle 25 iscritte da messe dalla FIP più pistoia riposizionatasi entro il termine del 15 giugno e 100 ripescata in base all'iscrizione come riserva entro il 20 luglio una scelta determinata dal non reiterato della Federbasket alla riapertura dei termini per il ripescaggio finalizzato a ristabilire la parità di società nei raggruppamenti la LNP sta perciò unicamente ragionando su ipotesi alternative alla formula che verrà presentata mercoledì prossimo nel corso dell'incontro indetto con tutte le società del primo campionato dilettantistico l'unica possibilità concreta per reintrodurre la fase a orologio prevista attualmente dal format con relativa delibera emessa dalla FIP si otterrebbe così mediante una retrocessione diretta dopo le 26 giornate di stagione regolare riducendo a 26 le partecipanti alla seconda fase quella con gli incroci tra i due gironi per arrivare a 30 partite disputate per i club del nord e 28 contando i due riposi per quelli del sud se così fosse alla neonata pallacanestro Avellino e alla Virtus Arechi Salerno non resterebbe che prendere atto dell'impossibilità di compiere il salto diretto nell'anticamera della massima serie da parte mia è tutto grazie ad Orlando Matarazzo in regia vi lascio alle previsioni del tempo buon proseguimento su Saino Oveste TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.